L'Abruzzo ed il Molise devono tornare ad essere una regione unica. Ne è fermamente convinto l'eurodeputato molisano Aldo Patricello, candidato per Forza Italia nella circoscrizione sud, che in un incontro all'Hotel Santa Croce Meeting di Sulmona con gli elettori del Centro Abruzzo, ha posto l'accento sugli aspetti derivanti dalla nuova programmazione europea che prevede più risorse per il mezzogiorno. Un tema caldo che dovrà indurre le due regioni ad unirsi per avere una valenza maggiore a livello di competitività e di rappresentanza politica ed istituzionale. Due regioni che auguriamoci che prima o poi torna ad essere unica. Io sono tra i fautori di tornare a Abruzzo e Molise insieme. L'auspicio dell'onorevole Patricello è quello di ricongiungere le due realtà per far ritorno all'antica Abruzzo e Molise, che si estendeva per circa 15.191 chilometri, fino alla separazione sancita nel 1963 con la modifica del testo costituzionale. Due regioni che hanno necessità di riprendere un cammino dello sviluppo, due regioni che sono cerniere d'Italia, sono la parte più a nord del sud, ma che in questo momento hanno bisogno di un aiuto europeo per dare forza e fiducia al mondo imprenditoriale. Aldo Patricello ha invitato a credere maggiormente nell'Europa perché ha rimarcato che la sfida dei prossimi anni dovrà essere quella di battersi per giungere ad un cambiamento. Noi siamo cittadini d'Europa, prima di essere abruzzesi, molisanti. È una grande istituzione che è la nostra casa, che dobbiamo cambiare, dobbiamo modernizzarla. Noi siamo impegnati per questo cambiamento perché crediamo in questa istituzione, vogliamo essere parte di attori, artefici, ma soprattutto di questa modernizzazione che ci chiede la società civile. Ma come viene considerata l'Italia in Europa? Ma noi dovremmo guardare di più a costruire rapporti, relazioni, dovremmo metterci in una condizione di essere alleati con gli altri. Non dobbiamo farci giudicare in negativo. Noi dobbiamo recuperare credibilità senza dimenticare che siamo stati i padri fondatori di questa istituzione e come tale abbiamo titolo, la ragione, per contare di più. Le elezioni del 26 maggio saranno un test importante, ha sottolineato Patricello, per Forza Italia e per tutto il centro-destra. Forza Italia auguriamoci che avrà un buon risultato con una pattuglia guidata dal Presidente Berlusconi, sapremo in qualche modo partecipare a pieno titolo alla famiglia del Partito Popolare Europeo. Aldo Patricello si presenta dopo aver già portato a termine tre mandati al Parlamento Europeo. Una campagna elettorale ha confidato agli elettori del centro-Abruzzo affrontata come se fosse la prima volta. Io ho cominciato questa quarta campagna elettorale nel segno dell'incontro con le persone, incontrando il maggior numero di amministratori, incontrando i giovani, il mondo del lavoro. Cioè, una campagna per me affascinante, perché quando si incontra la gente ci si arricchisce di conoscenza, di problemi del territorio, si è portatore di idee, di progettualità.